Ma niente, era un punto d'appoggio per la squadra, Reda, Pelli e io siamo quelli più in condizione, Reda specialmente, quindi la corsa era da fare per lui, un uomo davanti ci permetteva di non tirare, star lì a controllare e nel finale dopo Reda è rimasto con i primi e il Pelli subito dietro, peccato che non sia entrati per poco perché se no potevano dargli una mano. Non so se sai, ma Sagan ha fatto un po' da tappo per il secondo gruppo, per te è stato davanti a Mastro Degna. Sono strategie di squadra, si controllavano lui e Cancellara, ne ha approfittato Mosè, però sono tattiche di squadra che funzionano così. Ma com'è che il gruppo non è riuscito a riprendere i fuggitini perché sono arrivati all'arrivo? Eh, perché sono andati forti e poi sai, delle volte uno sottovaluta la fuga, è una corsa veloce e delle volte si sottovaluta e li hanno fatto prendere magari forse troppo perché sono messi a tirare quando avevano più di 10 minuti e non è facile in una strada del genere andare a riprendere perché nello sterrato l'andatura di quelli in fuga e quella del gruppo è relativamente differente.